e una quantità di nuovi posti di lavoro senza intaccare gli spazi naturali e paesaggistici. Nell'ufficio progettazione si accolgono per tempo i desideri e i suggerimenti dei futuri abitanti per poterli realizzare nell'ambito del possibile durante i lavori. Il composto è il composto. In un ex magazzino di carri armati una falegnameria ha avviato il suo lavoro. La disponibilità di molto spazio vicino alla città ha favorito la decisione di stabilirsi qui. Subito accanto un fabbro. Troviamo atelier di artisti, tetto con pannelli solari, balconi rivestiti di verde. Il progetto pilota di Tubinga unisce abitazioni, lavoro e cultura. Il concetto, un quartiere compatto. Ci spostiamo verso nord ad Hamburgo, città portuale e metropoli commerciale tra i fiumi Elba e Alster. Qui si rispetta la tradizione. Le costruzioni del XIX secolo nel centro sono di classe. La flè e tinsel, una volta terreno non coltivabile del dopoguerra, oggi è un gioiello della nuova architettura. Hamburgo, centro economico, con le sue costruzioni di rappresentanza. Dietro le facciate in vetro e mattone si nascondono spesso le più svariate tecniche per contenere il consumo energetico. Un quartiere portuale con il suo nuovo aspetto. La costruzione a trampoli dell'editore Gruner e Iar scioccava inizialmente con il suo design d'avanguardia. Oggi è diventata un modello per la nuova edilizia. Anche qui si punta sull'ecologia, riutilizzando il calore di scarico e riducendo il consumo energetico in tutti i settori di lavoro. Il quartiere Hamburgo-Farmsen, un ex-ippodromo, è stato trasformato in quartiere residenziale. Situato in mezzo a zone di verde con parchi e laghetti, esso rappresenta un progetto urbanistico straordinario. Modello sono stati gli insediamenti olandesi con la loro molteplicità di forme. I diversi tipi di abitazione individuale sono progettati sia per le famiglie che per le persone anziane. Un raccordo interno del quartiere vietato alle auto serve come area di gioco, di passeggio e come spazio di incontro. Adesso visitiamo una città più piccola. Badenhausen ci sorprende con un edificio futuristico dell'architetto Frank O'Ghiri. Una casa multiuso, contemporaneamente centrale, elettrica e punto di incontro. Il tetto fotovoltaico sfrutta l'energia solare in modo ottimale. Al centro dell'edificio è situata la centrale di riscaldamento che abbina la produzione di corrente al principio ecologico dello sfruttamento del calore di scarico. Un riuscito esempio di edilizia innovativa che unisce il rispetto per l'ambiente con l'estetica. La nostra ricerca di nuovi progetti urbanistici viene premiata a Esslingen, sul Neckar. La cittadina nei pressi di Stoccarda è rimasta per secoli quasi immutata. Non vogliamo soffermarci sul lato idilliaco della città, ma scoprire un centro di urbanistica ecologica dietro il castello e i vigneti. Per urbanistica ecologica si intende la riduzione del fabbisogno di terreno e l'inserimento nella natura, con case a tre piani e un procedimento edilizio a basso consumo energetico. Per esempio il calore solare raccolto dietro le vetrate è trasmesso alla zona abitabile. La mescolanza tra case a più piani, villini singoli e a schiera si è affermata. Il concetto edilizia individuale a favore delle famiglie. La skyline della metropoli dell'economia, francoforte sul meno. Nel più importante centro bancario d'Europa è sorto un nuovo grattacielo, la torre della Commerce Bank, alta 300 metri. L'architetto è Norman Foster, dagli Stati Uniti. La torre con un secondo rivestimento in vetro è il primo eco grattacielo, dice Foster. La modernissima tecnologia riduce il consumo d'energia, sensori regolano la temperatura. In nove giardini a quattro piani il personale dei 62 piani dell'edificio si può rilassare e godersi nello stesso tempo il panorama della città. Il grattacielo di Foster è un contributo molto discusso alla richiesta di equilibrio tra economia ed ecologia. All'ombra del quartiere bancario, vivacità e tranquillità al Römerberg, il salotto buono di Francoforte. Un luogo di cultura e comunicazione cittadina vivace che invita a gironzolare e a fermarsi. Qui dove le case a Traliccio ricordano ancora la storia della vecchia città imperiale, si incontrano locali e forestieri. Un esempio per la varietà architettonica di Francoforte è la notevole eco-casa L'Arca, con uffici e negozi, ristrutturata dal proprietario, la tipografia Caro-Druck, è rivestita di verde sia all'interno che all'esterno. Il calore perduto della tipografia e il calore passivo del sole, insieme alla continua circolazione di acqua, regolano la temperatura interna. Un esperimento di fama internazionale. L'Ipsia, un monumento della metropoli tedesco-orientale, è la stazione centrale più grande d'Europa, costruita dal 1902 al 15 e completamente rimodernata. Oltre a migliorare la tecnica, è stato costruito anche un moderno centro commerciale su tre piani. L'offerta di servizi trova un vasto gradimento. La modernizzazione è parte di un progetto urbanistico che auspica un aumento del numero di viaggiatori in stazioni attraenti, vivacizzando così anche i centri cittadini. Il risanamento di edifici storici ha trasformato in modo decisivo l'aspetto di L'Ipsia dopo l'unificazione della Germania. Non solo la taverna di Goethe e di Auerbach, ma anche il famoso passaggio Mudler, hanno riacquistato di nuovo un aspetto splendido. Anche i cortili di commercio della vecchia città fieristica, ricca di tradizione, si presentano in una nuova veste. Nelle vicinanze i resti di un triste degrado, eredità dei tempi della Repubblica Democratica tedesca. Uno dei compiti più complessi della promozione urbanistica nella Germania dell'Est non è ancora concluso. Escursione a Grünau, un soborgo di L'Ipsia, dove si trova il più grande complesso edilizio di prefabbricati della Sassonia, che è diventato un progetto pilota per un efficace risanamento urbanistico. La sfida? Trasformare questo monotono agglomerato edilizio nato vent'anni fa in un attraente quartiere della città. I complessi lavori di costruzione e di rinnovamento sono considerati esemplari. Per gli esperti dell'Europa dell'Est, Grünau è un esempio di modernizzazione da imitare e nello stesso tempo è un modello per lo sviluppo di quartieri multifunzionali, dove si conciliano abitazione, lavoro e tempo libero. Grünau è il futuro. Il nuovo Allee Center trasmette già una moderna atmosfera cittadina e costituisce un punto di incontro per gli abitanti. La nuova fiera di Lipsi ha un progetto coraggioso. Il salone d'ingresso ideato dall'architetto Folkvin Marg ricorda i palazzi di vetro dell'esposizione mondiale del 1900. Altri saloni e un centro congressi danno l'immagine di un centro fieristico del XXI secolo, in vista dei mercati in espansione prima di tutto nell'Europa dell'Est. Nella competizione tra i centri fieristici della Germania, Lipsia ha buone probabilità di soddisfare le esigenze di espositori e visitatori, anche grazie ai servizi di qualità. Il progetto e la sua realizzazione caratterizzano lo sviluppo dell'Est. Anche Monaco, capitale della Baviera, tra moderno e tradizione imponente, concentra i conflitti e le chance dello sviluppo urbano. Passeggiando lungo la via Kaufinger, una delle prime aree pedonali della Germania, si nota una progettazione trasparente. Visitare il mercato Victualien Mart stuzzica la voglia di locali e forestieri a fare acquisti. Ma l'atmosfera tranquilla inganna. Monaco spesso tocca i propri limiti. Come ovunque nel mondo, anche in questa città il traffico cresce in modo inarrestabile. Per ridurre le emissioni di anidride carbonica è stata allargata la rete della metropolitana, ritenuta esemplare nel suo genere. Le nuove stazioni di Monaco sono progettate secondo le esigenze degli utenti e i tempi minimi tra le corse dei treni permettono l'utilizzo ottimale dei mezzi pubblici. È previsto l'ulteriore ampliamento della rete. Il futuro delle città, in bilico tra esigenze economiche e ambientali, costringe ad agire in modo responsabile. La tutela delle risorse e l'eco-compatibilità hanno la precedenza se si tratta dello sviluppo urbanistico funzionale previsto da Agenda 21. Economia, ecologia ed esigenze sociali devono essere integrati in questo concetto vitale. In Germania vi sono molti esempi per uno sviluppo urbanistico umano ed eco-compatibile. È già iniziata una svolta. Resta poco tempo per correggere la rotta, a livello mondiale, in accordo con le risoluzioni di Rio de Janeiro e nell'interesse delle future generazioni. Resta poco tempo per correggere la rotta, a livello mondiale,